Audio libri in pillole, il podcast con le anteprime degli audiolibri prodotti da Biodicast Audiolibri. Anatomia della guarigione, i sette principi della nuova medicina integrata di Erika Francesca Poli. Parte 1, paragrafo 1, alle radici delle parole. La perfetta salute e il pieno risveglio sono in realtà la stessa cosa. Edward Butch Forse non ci avete mai pensato. Forse non vi siete mai posti la domanda che è la prima e fondamentale nell'anatomia della guarigione. O forse sì. Che siete terapeuti, medici o siate stati pazienti? Vi siete mai interrogati su cosa significhino realmente la cura o la guarigione? È giunto il momento di farlo. E poiché le parole nella loro stessa struttura sono gravidi di significati, il primo approccio al senso profondo di questa domanda ci giunge dalle etimologie. Ricordate di interrogare sempre le etimologie delle parole, poiché in esse risiede l'atto primigenio della loro creazione, la matrice concettuale che ha dato loro vita prima di lanciarle nello spazio dell'esistente e del sensibile. Curare deriva dalla radice di cura, ku o kav, che significa osservare. La radice sanscrita potrebbe essere kavi, saggio. Nella sua forma latina più antica si scriveva kera ed era usata in un contesto di relazioni di amore e amicizia. Essa esprimeva l'atteggiamento di premura, vigilanza, preoccupazione nei confronti di una persona o d'oggetto amati. La cura sorge dunque quando l'esistenza di qualcuno o qualcosa ha importanza per me. Si tratta di un modo di essere, un attributo della relazione che teniamo con noi stessi o con gli altri. Curarsi in quest'ottica può significare allora ricorrere a un farmaco senza neppure sapere cosa realmente esso produrrà in noi? Curare può significare prescriverlo senza neppure spiegarlo? Certo che no, e ne parleremo. Veniamo al termine guarire. In latino, nel significato che gli diamo oggi, ovvero far tornare in salute che è malato, corrisponde al verbo sanare o convalescere, mentre, come indicato nel prestigioso vocabolario etimologico della lingua italiana di Ottorino Pianigiani, la parola guarire compare nell'antico spagnolo come guariser, proveniente dalla radice garir, a sua volta derivante dalla radice germanica varian, da cui ver, difesa, o wear in inglese, che indica l'osservazione, la consapevolezza, per esempio to be aware. A sua volta connessa alla radice pre-germanica var, che significa coprire, cui si collega il latino tueri, proteggere o guardare. Questa lunga disamina etimologica per mostrare che in antichità guarire significa preservare, difendere, salvare dal male, attraverso il guardare, diventare consapevoli. Concetto molto più grande e più profondo del più limitato far tornare in salute cui si riferisce oggi il termine guarire. E soprattutto concetto che rimanda all'osservazione. E allora, da ultimo, veniamo al termine osservazione. Deriva dal latino observare, che rimanda alla radice indoeuropea sver-svor, che esprime l'idea del guardare, avere cura, custodire, stare in guardia. Facendo un confronto tra le lingue indoeuropee, scopriamo che hanno la stessa radice. Il confronto tra le lingue indoeuropee ci restituisce il senso profondo di un'identica e ridescente matrice nella quale si ritrovano parole che sembrano suonare in modo così diverso. Osservazione, salute, guarigione, sguardo, guardia. Nel dizionario etimologico comparato delle lingue classiche indoeuropee, Palombi Editore, Roma 2010, a pagina 498-499, Franco Rendik risale a una radice ancora più antica. Ipotizza che in sver-svor si riconosca la radice sver, composta di su e r-ar, che esprimono l'idea dell'arrivo, ar, del bene, su, come luce e suono, dando origine ai termini splendere, rivolgere gli occhi alla luce, suonare, cantare, e che horao, in greco, originariamente significasse collegarsi con la luce del sole, disegnando solo successivamente il vedere. Che riflessioni ricavare da questo excurso etimologico? Avrete capito innanzitutto che uno degli intenti di questo libro è risvegliarvi alla conoscenza profonda, alla verità che è oltre ciò a cui siamo abituati. Se vi risvegliate e andate a cercare, il bello è che trovate. Trovate collegamenti, significati, rivelazioni potenti. La prima, riguardo alla cura e alla guarigione, è che la loro stessa etimologia rimanda molto di più di quello che si pensa. Rimanda nel primo caso a una relazione con qualcuno o qualcosa a cui si tiene, ovvero un atto d'amore. E nel secondo caso, all'atto dell'osservare, che nella radice più antica riguarda il volgere lo sguardo alla luce, suonare e cantare. Nell'etimologia vi è già l'intera anatomia della guarigione che potrete apprendere in questo libro. Infatti, le parti anatomiche della guarigione stanno nella relazione di amore che potete intrattenere con voi stessi, gli altri, la vita e il mondo. Insieme alla capacità di diventare consapevoli, di osservare e osservare rivolgendo gli occhi alla luce, ovvero raggiungendo, attraverso il potere e il rifugio dell'osservatore, una consapevolezza interiore che è ben oltre il sapere razionale e sembra rimandare a qualcosa di spirituale. Sembra avere a che fare con qualcosa che per il momento definiamo luminoso e man mano potrà essere chiarito e tradotto anche in termini medici e neurofisiologici. Questa è la straordinaria opportunità che si rende oggi possibile. Far dialogare, riunire, integrare scienze fisiche e scienze dello spirito e ricavarne appunto una anatomia della guarigione. Audiolibri in pillole Il podcast con le anteprime degli audiolibri prodotti da Biodicast Audiolibri Di cast Audiolibri Di cast Audiolibri ità Grazie a tutti